Il fatto che il Cagliari abbia cambiato tecnico è un elemento da non sottovalutare perché quando c'è questa situazione magari sicuramente inizialmente ci sarà un attimino di attenzione in più al particolare, di concentrazione, chiamiamola una scossa per quello che deve essere un po' tutto il gruppo, per mettersi in evidenza e quant'altro, quindi ci vorrà sicuramente da parte del Palermo una grande partita perché il Cagliari a mio avviso è un'ottima squadra, una squadra che ha un attacco importante, altrettanto a centrocampo sono molto forti, da più anni giocano insieme con lo stesso reparto e hanno fatto negli anni, si sono costruiti campionati importanti, di qualità, di conoscenze che ovviamente bastano queste per dire le difficoltà della partita. È chiaro che quando si riprende da una sosta è normale che lo puoi dire solo dopo quello che può arrivare, noi sicuramente da un lato abbiamo dato qualche giorno in meno ai ragazzi di sosta, sono stati bravi ragazzi in questo senso, ma è chiaro che poi quando rientri puoi aver parlato con la squadra, noi possiamo aver discusso, ci siamo detti determinate cose, riaccendere la macchina e riaccenderla subito al massimo dei giri diventa fondamentale perché poi devi dare un'impronta alle partite, per quello che ci siamo costruiti, per quello che è stato il nostro lavoro e dobbiamo farlo nella maniera migliore. Tutte le squadre hanno in questo periodo voci, chiacchiere che possono andare a svilupparsi, dovremo essere bravi a saper affrontare e a concentrarci sulla partita e su quello che ci aspetta, l'appuntamento della gara, prepararla al meglio perché la partita in Serie A vuole una grandissima attenzione, concentrazione, applicazione. Se pensiamo nel momento in cui siamo in vantaggio di poter gestire il vantaggio solamente difendendosi non abbiamo capito dove è il nostro ulteriore passo in avanti di crescita e di miglioramento che è quello sempre di andare a ricercare comunque, di giocare, di andare a far gol, di non abbassarsi, di andare sempre a continuare ad avere lo stesso atteggiamento, un po' quello che facevamo lo scorso anno in Serie B, siamo riusciti dopo un po' di tempo a portarlo nella squadra e a portarlo avanti, oggi lo vorremmo riportare al 100%, adesso magari siamo a un 80%, 85% del discorso, vogliamo cercare di migliorare questo aspetto ancora ulteriore di non accontentarsi del vantaggio, continuare a giocare alla stessa maniera, continuare ad insistere senza abbassare il baricentro. Ecco perché magari nelle ultime settimane, in alcune partite, il cambio degli interni di centrocampo, per cercare di andare e continuare ad avere quella aggressività alta in avanti, quella freschezza nell'andare comunque a mantenere ritmi alti di pressione, di aggressività, di intensità, di gamba, nell'andare poi nelle due fasi ad essere sempre costante, sia nell'accompagnare l'azione, sia nella bravura, nell'andare a dar noia là, nella metà campo avversaria.